Direi di partire dall'ultimo intervento che ha messo con forza l'accento su una contraddizione in termini tra gli strumenti di governo del territorio e le politiche di coesione sviluppo sostanzialmente. Io credo che questa sia la questione importante da riflettere oggi e da mettere al centro dell'attenzione. Io faccio l'assessore urbanistica quasi da un anno e ho avuto l'illusione di intervenire nella mia missione, nella mia azione di governo del territorio, rimpossessandomi e riattualizzando gli strumenti urbanistici presenti nella regione Calabria, rimodernandoli, riattualizzandoli, semplificandoli, cercando di dare delle risposte sostanzialmente al territorio. Questo non è accaduto e sostanzialmente è difficile che possa accadere perché c'è un mondo parallelo che è quello della politica di coesione sviluppo che è indipendente dagli strumenti di governo del territorio. Questo l'ha detto con forza. Forse è proprio nella sede della SIU, credo che sia il caso di fare una riflessione. Io vengo anche dal, come dire, imperniato del mondoino e abbiamo ragionato nell'ultimo congresso a Cagliari sostanzialmente su queste questioni e cerchiamo di leggere con più attenzione e con più, come dire, riflessione rispetto alle contaminazioni che l'urbanistica può avere rispetto agli altri mondi, altrimenti non riusciamo rispetto a questa. Credo proprio all'interessante giornata che si sta sviluppando oggi e come si fa ad avere le contaminazioni tra un mondo che è attento alle regole e alle regole di comportamento e di regolamentazione delle attività sul territorio e invece un mondo che riguarda allo sviluppo del territorio non tanto rispetto alle regole ma rispetto alle opportunità di sviluppo. Questo è un problema da risolvere, da guardare con attenzione rispetto alle cose dette e credo che la disciplina urbanistica possa in qualche misura affrontare e riflettere su questi temi cercando di guardare in modo diverso quello che è il sistema che è costruito in Europa rispetto agli obiettivi dello sviluppo territoriale e dello sviluppo economico. Qua sono stati portati alcuni esempi e in tre interventi che mi hanno preceduto la parola piano, la parola governo e territorio non è stata neanche sostanzialmente citata perché è quasi indifferente rispetto alle azioni che sono state raccontate rispetto agli interventi che sono stati in qualche modo raccontati. Allora credo che sia interessante fare una riflessione seria della disciplina, dell'utilità della disciplina, della capacità della disciplina di intercettare i cambiamenti, di intercettare i cambiamenti climatici, quali sono gli strumenti che la disciplina può mettere in essere. Io credo che la disciplina può dare un contributo importante se guarda alla trasformazione dei territori attraverso una contaminazione dei saperi. Non possono essere dei saperi monotematici, dei saperi rivolti esclusivamente alla costruzione di regole. Faccio alcuni esempi di carattere proprio operativo. Io ho modificato la legge urbanistica, cioè il governo e il territorio calabrese ha modificato la legge urbanistica che non aveva dato risultati, cioè in 15 anni di attuazione della legge solo 15 piani erano arrivati a compimento. La legge è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio, quindi alla Corte Costituzionale, per elementi che non riguardavano le riforme, ma che riguardavano la vecchia legge. Quindi anche gli strumenti di governo del territorio non sono percepiti come nell'immaginario, nell'immaginario, nel sistema paese, sono con disattenzione, con disattenzione reale e quindi non siamo in grado di fornire alla società una certezza di disciplinare che possa intercettare le questioni e risolvere i problemi. Proprio ieri abbiamo avuto in Regione Calabria, in Giunta, una lunghissima discussione con i responsabili dei fondi europei che ha illustrato i programmi dei fondi europei e non c'è stata nel racconto e quindi abbiamo interrotto la discussione proprio per una mia presenza, una mia forte opposizione a intervenire sul territorio, indipendentemente dalle regole di governo del territorio e dalle aspettative che le popolazioni hanno rispetto al futuro del territorio perché gli interventi della programmazione rispetto ai fondi europei sono sostanzialmente indifferenti perché sono allocazione di risorse senza ragionare rispetto all'ipotesi di sviluppo. Io credo che questa sessione di oggi sia molto importante rispetto ai temi posti, che possa ripensare disciplinarmente il contributo dell'urbanistica rispetto alla migliore calibrazione delle possibilità che l'Europa fornisce con i fondi aggiuntivi. Io credo che sia un pericolo delle risorse aggiuntive se non trovano una collocazione organica rispetto alle politiche di governo del territorio delle regioni e delle comunità locali. Io mi faccio portatore di una riflessione che deve essere una riflessione disciplinare importante rispetto alla quale mi aspetto che le conclusioni di questa giornata di rassio possa nascere una proposta operativa. Grazie.